Un nucleo familiare padre, madre e figlio di 16 anni avrebbe rapinato una gioielleria a Saponara in provincia di Messina il 26 aprile scorso, fuggendo con un bottino di 70.000 euro. Oggi i carabinieri dopo le indagini hanno arrestato i tre. Nel corso dell'operazione è stata affermata una quarta persona ritenuta complice della rapina. Quest'ultima e il padre del giovane sono stati portati in carcere la donna ai domiciliari e il ragazzo in una casa circondariale per minori. Sono stati tutti accusati di rapina e lesioni durante il colpo. Fu infatti ferito al titolare della gioielleria.